Buongiorno a voi tutti, bentornati al TG2, dunque la vicenda dei presunti fondi neri russi per finanziare la Lega. La procura di Milano si appresta a svolgere una rogatoria internazionale per verificare se vi fu passaggio di denaro e per identificare tutti i partecipanti al summit all'hotel Metropol di Mosca. Sentiamo Gabriele Lobello. L'arrogatoria internazionale potrebbe essere la prossima mossa della procura di Milano nella ricerca degli eventuali flussi di denaro che da Mosca potrebbero condurre alle casse della Lega. 300 milioni di tonnellate di gasolio e cherosene venduti dalla Russia all'Italia, affare da cui sarebbe derivato, nell'ipotesi dell'accusa, un finanziamento di 65 milioni di euro per la campagna elettorale della Lega alle ultime europee, affare che tuttavia non si è mai concretizzato. I PM cercano di fare luce su un incontro fra tre italiani e tre russi avvenuto nell'hotel Metropol di Mosca lo scorso ottobre, come documentato dal sito americano BuzzFeed che ha pubblicato la registrazione audio dell'incontro che faceva già parte del fascicolo aperto dai magistrati a febbraio. Fra gli italiani Gianluca Savoini, leghista senza incarichi nel partito e presidente dell'Associazione Lombardia-Russia, al momento l'unico indagato con l'accusa di corruzione internazionale, un avvocato di nome Luca che è l'unico a parlare esplicitamente di un 4% di sconto dalla compagnia russa che servirà a sostenere la campagna elettorale, è un tale Francesco. Il leader della Lega Salvini prende le distanze da Savoini e afferma di non averlo invitato né a Mosca nell'ottobre 2018 né a Villa Madama nell'incontro bilaterale con Putin, ma foto e tweet di quest'ultimo confermano la sua presenza. Leni precisa di non aver preso parte all'affare.